Musica Sale la febbre elettorale ad Alife in vista delle prossime elezioni comunali. Capannelli ovunque, in piazza e nei locali non si parla d'altro e a pochi giorni dal voto è già scattato il toto sindaco. In campo 46 candidati divisi in quattro liste che si batteranno per una fascia tricolore e 12 poltroni disponibili. Per altrettanti consiglieri che andranno a formare il nuovo governo della cittadina matesina. Noi abbiamo incontrato il candidato a sindaco Maria Luisa Di Tommaso e sentite che cosa ci ha detto. Lei decide di lasciare il suo importante ruolo di giudice di pace per scendere in campo in politica. Perché? Sono sicura di poter utilizzare al meglio la mia esperienza professionale. Un'esperienza, come sappiamo, i miei compiti sono quelli di esaminare gli atti, di leggere, di approfondire, di confrontarmi e trovare quella che è la soluzione migliore. Cioè io nel decidere, cerco di decidere, quindi nel dare torto ragione, praticamente metto in campo tutta la mia preparazione, i miei approfondimenti, mi studio le leggi, mi confronto e in alcuni casi anche con chi ne sa più di me, per emettere quella che è una decisione che sia la migliore, perlomeno in apparenza. Per cui questa mia professionalità, acquisita negli anni, quindi 15 anni di giudice di pace, penso che possa essere utilizzata, anche se è una brutta parola questa, per poter al meglio amministrare questo comune. Dottoressa, non le fa un po' paura prendere in mano un comune pieno di sesso? No, perché accanto a me è una squadra ricca di professionalità, quindi sicuramente ci sarà un confronto continuo, un confronto non solo tra di noi, ma ripeto, penso che nella vita bisogna anche vestirsi di un po' di umiltà e per adottare una decisione migliore bisogna confrontarsi anche con persone ancora più preparate e più specializzate di noi. Però sono sicura che con la mia squadra potremo affrontare anche questo problema, che in questo momento è il più grave del comune di Alife. A proposito di problemi, quale sarà, secondo lei, il primo problema che affronterà in caso di vittoria elettorale? Allora, insieme alla mia squadra abbiamo deciso di riportare Alife alla normalità, quindi in questo momento Alife ha bisogno, come già ho detto anche in precedenza, di cose normali, cose semplici, quindi avere una città ordinata, avere strade ordinate, normali, quindi la prima cosa dovremmo garantire la sicurezza dei veicoli, dei pedoni, delle bici, dovremmo avere l'acqua tutto l'anno, questo è un tema per me importantissimo, un paese, una città come la nostra, che non solo nel centro urbano ma anche nelle frazioni ogni tanto subisce queste sospensioni di acqua spesso e volentieri, al di là della carenza idrica che normalmente si verifica solo nei periodi estivi. Ad Alife purtroppo l'acqua viene a mancare anche durante l'inverno, cosa che in altri centri non accade, quindi oltre le strade, rendere una città vivibile, normale, il nostro scopo è rendere Alife normale, non vogliamo costruire grattacieli ma iniziare dalle piccole cose, poi se sarà possibile faremo anche le grandi cose, ma iniziamo dal piccolo, cioè dalla quotidianità, dalle esigenze quotidiane di tutti i cittadini. Da Alife sono uscise in gambo quattro liste, perché dovrebbero votare la sua? Penso che, allora, innanzitutto voglio precisare, per me la mia prima candidatura, e come me altre nove persone, non abbiamo avuto mai esperienza. Nella nostra lista c'è anche qualcuno, candidato e non eletto, candidato, eletto nelle precedenti amministrazioni, che comunque acquisite un'esperienza. Io penso che nell'insieme tra esperienza, competenza, professionalità, studi approfonditi da parte di ciascuno di noi, che rappresentiamo un po' tutta la società civile, quindi abbiamo l'impiegato, il pensionato, l'avvocato, l'imprenditore, il libero professionista, e quindi pensiamo di rappresentare un po' tutta la società civile, mettendo insieme queste forze, e pensiamo di farcela. E solo, ripeto, per competenza e professionalità, e perché no, anche esperienza. In due secondi, davvero, perché siamo in chiusura, si vuole inviare un messaggio ai suoi lettori, ai suoi concittadini? La mia squadra, mi ripeto, è ricca di professionalità ed esperienza, ma soprattutto, alla base dei nostri principi, c'è tanta onestà. Quindi la base da cui noi partiamo è l'onestà, che poi venga anche professionalità, competenza ed esperienza, penso che questa sia una marcia in più rispetto alle altre liste. Da Alife è tutto, Lorenzo Applauso, per casertasera.it.